Novità e conferme per il calendario venatorio 2020 approvato quest'oggi dalla provincia di Belluno in virtù della gestione autonoma della funzione di caccia e pesca assicurata all'ente provincia in accordo con la regione Veneto. Dall'estrumento è stato redato in sinergia con le associazioni agricole, ambientalisti e il mondo venatorio partecipanti anche al tavolo verde provinciale. L'evità principale è l'aumento del 20% del prelievo a carico di femmine piccole di cervo rispetto all'anno scorso perché nell'incontro che abbiamo fatto anche stamattina con le organizzazioni agricole si è riscontrato un ulteriore aumento dei danni alle colture e quindi dobbiamo tenerle conto e quindi abbiamo aumentato questo prelievo. La seconda è la conferma del piano sperimentale triennale che ci ha approvato l'anno scorso Ispra di anticipo del prelievo alle categorie piccoli e femmine maschi di un anno appena dopo Ferragosto. Nel 2019 sono stati prelevati 2.673 cervi parimenti divisi tra maschi, femmine e piccoli un numero che sfiora il 91% dei capi consentiti dal piano di abbattimento. Per il 2020 il totale autorizzato arriva a 3.234 capi. In generale la popolazione degli ungulati in provincia è in aumento. Le stime dello scorso anno riportano all'incirca 40.000 capi escluso il territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Per il cinghiale è stata disposta all'eradicazione, 400 sono i capi che sono stati abbattuti nel 2018, 705 nel 2019. Un'annata sulla quale influiscono anche le conseguenze dell'emergenza coronavirus. Ci attendiamo sicuramente dei grossi danni, soprattutto nella seconda parte dell'anno. Alcuni danni si sono riscontrati già nel periodo della semina con branchi di cinghiali che hanno creato grossi problemi, soprattutto in Valbelluna. Questo è derivato proprio dalla problematica del Covid, nel senso che è stata sospesa l'attività di controllo al cinghiale e conseguentemente non sono stati effettuati i prelievi di questo animale nei mesi in cui effettivamente c'è stata la riproduzione degli animali stessi. Il futuro della caccia è quello di andare sempre più verso una gestione sostenibile dell'ambiente e della fauna, ha aggiunto infine Alberto Coleselli, rappresentante del mondo venatorio.